Chi potrebbe voler svegliare Sally così presto? Alcuni postini sono molto maleducati! Che strano! Una lettera! Chi usa ancora la posta ordinaria? I messaggi sono molto più comodi! Bene, bene! Cosa abbiamo qui? A presto, nonna! Una nonna è un problema! Ma due nonne contemporaneamente sono un disastro! Oh no! Devo ripulire! Mi chiedo quanto tempo ci vorrà per sbarazzarsi di tutta questa spazzatura! Non molto se non porti fuori la spazzatura, ma la nascondi! È un classico life hack! Ecco la prima nonna! Sophie! È bellissima! Si capisce subito che finanziariamente è messa bene! Nonna Skyler, invece, ha problemi di soldi! Ma non soffermiamoci su queste piccolezze! Non vedono l'ora di abbracciare la loro nipotina! Questa casa non è abbastanza grande per due nonne! Sarà un fine settimana strano! Ma chissà! Magari le nonne diventeranno amiche! Nonna Skyler può fare miracoli! Crea capolavori culinari letteralmente dal nulla! Solo un paio d'ore in cucina... E la cena per la nipote è pronta! Nonna! È delizioso! Mangia! Ti fa bene! Ma nonna Sophie, non gliela lascia passare liscia! Il fast food non è salutare! La nonna ricca può permettersi uno chef personale! Un paio di banconote e presto il pranzo sarà pronto! E non sono solo hamburger e sushi! È una vera opera d'arte! La cena è servita! È ora di mangiare! Che profumo delizioso! Ma... Si può mangiare l'oro? Sembra di no! Ma nonna Sophie sa esattamente come rendere felice sua nipote! Questo hamburger ha bisogno di qualcosa di verde! No! Sally non mangerà la carta! Si scopre che nonna Skyler è una vera fashionista! Sa come sfruttare una svendita! C'è un tesoro in queste pile di vestiti! E alcune cose sono così belle che devi combattere per averle! Nonna Skyler è la campionessa di combattimento! Tesoro, guarda come ti sta bene! Tieni! Che bel giro di shopping! Ed è ora di una sfilata di moda fai da te per sfoggiare i nuovi vestiti! Questi vestiti hanno visto giorni migliori! Ma nonna Skyler è felice! La nonna Ricca non è affatto contenta! Forse questo outfit non ha abbastanza accessori! No, no! Niente oro! È troppo luccicante! Queste perline saranno perfette! Sono moderne! Sally è una vera combattente! Lotta più che può! Ma la nonna non si arrende! Ok, basta! Smettila di maltrattarla! Sally, andiamo a prendere dei veri vestiti! Grande idea! Forse posso migliorare il tuo look! In questa boutique è tutto super elegante! E ci sono così tanti bei vestiti che non sai dove guardare! E nonna Sophie è molto generosa! Non va da spese per la sua nipotina! Può permettersi anche questo vestito dell'ultima collezione di moda! Wow! Vorrei poter fare shopping così ogni giorno! È ora di mostrare a nonna Skyler cos'è la vera moda! Ma non si sa perché non le piace! Troppi glitter! Mi stanno accecando! E giovani d'oggi! Di solito nonna Sophie non fa le pulizie! Ma deve aiutare Sally con le faccende! Ho sentito dire che fare il bucato non è difficile! Ma non so come accendere questa macchina! Cominciamo con la cosa più semplice! Caricare i vestiti sporchi nella lavatrice! Invecchiare è dura! Ho dimenticato qualcosa! Ho anche i piatti da lavare! Chiudiamo! E penso di dover mettere i soldi nella lavatrice per farla partire! Ce l'ho fatta! Nonna Sophie è orgogliosa di se stessa! Nonna Skyler invece è bravissima a fare i lavori di casa! Non può permettersi le cameriere! Quindi fa tutto da sola! Oh povera Sally! Questi jeans sono completamente strappati! Non va bene così! Nonna Skyler risolverà il problema! Ripara ogni buco nei jeans in pochi minuti! Ma Sally non la ringrazierà! Quelli erano i suoi jeans preferiti! Tutto stava andando alla grande! Ma poi... Una tragedia! Un brufolo! È enorme! E fa male! Non farti prendere dal panico, piccola! La nonna sa cosa fare! Un cetriolo ti può aiutare! Nonna Skyler conosce tanti trucchi di bellezza! Sei sicura che sarà d'aiuto? Ma nonna Sophie è convinta che i cetrioli vadano mangiati! Non messi sui brufoli! Andiamo al salone di bellezza! Nonna Skyler sta impazzendo! Non è riuscita a salvare la sua amata nipote! Ma il salone di bellezza sarà sicuramente in grado di affrontare un brufolo! Soprattutto per tutti questi soldi! Qual è il punto di tutte queste procedure complicate? Se basta usare il fondotinta! Perfetto! Il brufolo non è visibile! Quindi il problema è risolto! Ma questo non è abbastanza per nonna Sophie! Ha il suo segreto di bellezza! Sì! Metti l'oro sul brufolo! Va meglio! È sano e bello! Che bella giornata relax! Le nonne non riescono a smettere di litigare! Le cose si stanno facendo tese! Volano scintille! Devo fare qualcosa! Ehi! Ho una sorpresa per voi! Guardate qui! Un concorso per nonne! Sembra carino! Sei sicura che sia una buona idea? Le nonne lo adorano! Ora mostreranno... Chi di loro è la più forte e coraggiosa! Le belle vecchiette sono molto più dure di quanto sembri! La prima gara consiste nel lanciare la palla nel canestro! Nonna Skyler non ha scampo! Perché la sua rivale ha un aiutante! È alto, giovane e forte! Condurrà nonna Sophie alla vittoria! Sì, ha funzionato! E ora la corsa! Sarà molto più difficile! Ma non per nonna Sophie! Un personal trainer la porterà al traguardo! E nonna Skyler rimane indietro! Ma è così orgogliosa che non accetta aiuto! E poi c'è la prova di forza! Ed è qui che nonna Skyler mostrerà tutti cosa sa fare! Quando era giovane riusciva a fermare un cavallo al galoppo! Ma ora è più vecchia! Deve prendersi una pausa e poi continuare! Nonna Sophie ha degli assistenti anche qui! Ora si fa seria! Il prossimo round della nonna challenge è un incontro di box! Tuttavia, il loro coordinamento non è più quello di una volta! Le nonne non riescono nemmeno a controllare le proprie mani! Figuriamoci a fare box! Le vecchie signore continuano a mancarsi! Fermi! Basta! Oh! Questo non è quello che voleva Sally quando ha invitato le nonne alla competizione! Dobbiamo aiutarle a fare pace! Nonne, siete entrambe vincitrici! Andrete alle Maldive! Che dolce momento! Se le nonne sono felici, anche Sally lo è! Le nonne partiranno per la loro prima vacanza insieme in 20 anni! E si divertiranno un mondo! E' un bene che i soldi non siano un problema! Nonna Sophie potrebbe comprare metà isola! Dov'è il nightclub più vicino? Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Con quale nonna ti piacerebbe passare il weekend? Con Sophie o con Skyler? O tua nonna è ancora meglio? Faccelo sapere nei commenti! Metti like a questo video, iscriviti al nostro canale e clicca sulla campanella! Non perderti nessun nuovo sketch sulle nonne su Troom Troom Wow!